Musica Intanto nella provincia vesuliana Poggio Marino Cesaro fa finta di niente, incita a votare per il PDL gli amici di Poggio Marino. Voglio solo dirvi che il vostro impegno è un impegno importante, non è una solita campagna elettorale politica, è una campagna elettorale diversa, è mediatica, ma noi dobbiamo metterci il nostro. Il nostro significa, e voi lo sapete bene che significa, fare il porta a porta, andare a casa delle persone, telefonare alle persone, perché ad oggi, ad oggi, cari amici, ci sono ancora molti, molti decisi. E voi dovete essere capaci di convincere gli amici di votare il nostro partito. Poi, di fronte alle domande dei cronisti, scappa nel buio a gambe levate. Presidente, ma fai una cosa civile, scusami. Grazie a tutti.